pronti partenza via eccola ti piace lo simbolino è ma è qualcuno che piange ma è qualcuno che piange senti anche tu andiamo a vedere insieme chi è Gigi che è successo tesoro che è successo ho perso il mio gioco preferito ma come Gigi e dove l'hai perso nella vasca con le palline non lo trovo più qui oddio sarà difficile trovarlo Susanna aiutiamo Gigi a cercare il suo gioco non preoccuparti Gigi adesso ti aiutiamo noi ecco ecco ho trovato qualcosa è un telefono è questo il tuo gioco Gigi è tuo no non è mio non preoccuparti lo mettiamo da parte il telefono lo mettiamo da parte perché non è nostro e continuiamo a cercare una molla bella tutta colorata è questo il tuo gioco Gigi? no non è nemmeno questo hai visto Susi? una molla che bella ma non è di Gigi allora la mettiamo vicino al telefono continuiamo a cercare ho trovato qualcosa ho trovato il cioccio di Susanna oh hai trovato il cioccio di Susi grazie Gigi ma che ci faceva il cioccio di Susi nella vasca? tieni Sus... Susanna? dov'è Susanna? Gigi hai visto Susanna? oh mio dio è sparita cerchiamola Susanna Susanna dove sei? dove sei tesoro? eccomi Susi dove sei Susanna? ho trovato il gioco di Gigi l'ho trovata io evviva si la mia macchinina si l'ho trovata io la macchinina l'ho trovata io che carina la macchinina carina Susanna che brava tesoro hai trovato tu la macchinina che brava Susanna Susanna ha trovato la macchinina di Gigi si l'ho trovata io proprio io grazie Susanna finalmente posso giocare con la mia macchinina gialla è stato un piacere aiutarti Gigi che dici Gigi? la regaliamo una pallina a Susanna? ma certo puoi scegliere quella che vuoi hai sentito Susanna? puoi sceglierne una scegli il colore che preferisci puoi scegliere la gialla arancione rosa rossa viola azzurra blu e verde voglio quella rossa quella rossa eccola grazie mille Gigi ringrazia Gigi grazie Gigi grazie ragazze per avermi aiutato a trovare il mio gioco oggi ci siamo divertiti moltissimo insieme a Gigi e alla nostra Susanna ricordatevi fate sempre attenzione ai vostri giocattoli e noi ci vediamo nel prossimo video ciao